Il vulcano Kilauea crea distruzione e scompiglio nelle Hawaii. Lo scorso giovedì decine di case sono state distrutte e circa 1700 persone evacuate in seguito all'eruzione di un vulcano nella Big Island alle Hawaii. Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo, continua a deruttare lava, scatenando persino una serie di scosse di terremoto sull'isola. Da giovedì lava, gas tossici e vapore continuano a scaturire dalle crepe nel terreno create dal vulcano. Il magma in movimento ha provocato una serie di terremoti, il più violento lo scorso venerdì, con una magnitudo di 6,9 sulla scala Richter. Si tratta della più forte scossa registrata alle Hawaii da oltre 40 anni. Kilauea è in eruzione costante fin dal 1983, ma di solito non in modo tanto esplosivo. Normalmente la lava si riversa nell'oceano, senza minacciare paesi e villaggi. L'attività vulcanica ha causato diversi decessi, alcuni dei quali, però, si pensa siano dovuti all'esposizione al gas tossico. Benedetta, le immagini del vulcano sono incredibili. Non riesco a pensare che si possa vivere tanto vicino a qualcosa di così potente e pericoloso. Certo, ma le persone che vivono in prossimità del vulcano lo ritengono parte della vita, così come probabilmente lo sono i terremoti per gli abitanti della California o le trombe d'aria per chi vive nelle regioni centro-occidentali degli Stati Uniti. Hanno imparato a convivere con il pericolo. È stato incredibile come si è verificato quest'ultimo episodio. Lo hai letto? Non sono sicura. A cosa ti riferisci? All'inizio della settimana scorsa è crollato il fondo di un cratere in cima al vulcano. È stato come se un intero lago di lava fosse scomparso nel nulla. La lava del cratere è sprofondata sottoterra e poi, dopo qualche giorno, ha iniziato a traboccare dalle crepe del terreno. Tra le persone evacuate, qualcuno ha detto che è tutta opera di pele, la dea del fuoco e dei vulcani nella mitologia hawaiana. Dicono che sia venuta a reclamare la sua terra e che sia impossibile fermarla. Questa spiegazione è una magra consolazione per chi ha perso ogni cosa.